ciao ragazzi bentornati dallo zio chi ancora non avesse fatto lo invito a iscriversi al canale così da tenersi sempre aggiornato con i miei contenuti allora oggi vi voglio mostrare il mio ultimo acquisto è un mantenitore di carica per le batterie grandi quindi del lato dei furgoni dei trattori quindi di tutte le batterie che abbiamo e voglio fare un piccolo cenno su quello che è il mantenitore di carica così da capirne il funzionamento il mantenitore di carica non è un semplice caricabatterie poiché il caricabatterie si limita a caricare con una corrente costante la batteria anche quelle un po più scariche e riportarle a un certo valore di carica il mantenitore di carica ha un processo un po più particolare gestito da una centralina elettronica che tramite degli impulsi varia la tensione con il quale la tensione la corrente con il quale carica la batteria così da risvegliarla e tenerla sempre attiva poiché cambiandone i valori quindi caricando la batteria con dei picchi degli impulsi quindi mettendo e togliendo la corrente oppure cambiandone continuamente i valori riesce a tenere la batteria sempre attiva e con questo sistema riesce a recuperare anche le batterie più scariche quindi quello che andiamo a vedere nel dettaglio è il bosch c7 è il più completo della gamma bosch per quanto riguarda i mantenitori di carica non professionali quindi questo è un classico di carica per per casa per lobbista e ha moltissime funzioni che lo rendono davvero molto funzionale quindi ora ho provato attaccare la batteria della tipo ma fortunatamente la segna già da quasi subito carica quindi al momento non non ho nell'immediato una batteria da farvi vedere ma vi voglio mostrare le funzioni principali di questo mantenitore lo vedremo presto in funzione o sulla panda o sul trattore e su quello magari farò un video a parte ora quello che voglio dirvi prima di cominciare la funzione che più voglio mostrarvi è quella del di poterlo utilizzare come un alimentatore poiché bosch per questo strumento ha avuto l'ottima idea di pensarlo sia come funzione tampone ora se non è attaccato alla batteria purtroppo non riesco a farvi accendere i led poiché se noi mettiamo la corrente si accenderà il led di stato che ci dice che è in attesa in stand by e questo è lo stato nel quale si pone anche a ricarica finita o se si scalda troppo o se riceve dalla centralina qualche segnale di anomalia quindi quello che andiamo a fare una volta prima di collegare la corrente la spina andiamo a collegare i morsetti prima quello del più poi quello del meno alla batteria dell'auto e dopodiché attacchiamo la presa nella la spina nella presa di corrente e tramite ogni singola pressione che adesso non avviene perché è in sicurezza poiché non riconosce il carico attaccato andiamo a cambiare le varie funzioni ora le la funzione principale quale vi parlavo che è stato il motivo per cui io l'ho acquistato è la funzione tampone che vi dicevo prima poiché le macchine di ultima generazione alcune hanno bisogno di non vedersi mai staccata la corrente quindi quando andiamo a staccare la batteria potrebbero esserci problemi così come nel caso della mia tipo la 1.6 la motorizzazione 1.6 diesel se noi andiamo a staccare la batteria dal momento in cui perché magari dobbiamo sostituirla dal momento in cui andiamo a mettere la nuova batteria si accenderanno diverse spie quindi a meno che non abbiamo vi faccio un piccolo spoiler farò un video a breve di quello non abbiamo un'interfaccia che ci permetta di cancellare gli errori dalla centralina dobbiamo recarci comunque in officina con questa funzione invece noi andiamo a selezionare sempre premendo il tasto mode la funzione tampone e il mantenitore erogherà una piccola corrente a 12 volt che ci permette di poter staccare la batteria senza che l'alimentazione venga staccata dalle centraline e questo è il motivo per cui io ho scelto questo modello inoltre la funzione tampone può diventare alimentatore a 12 volt poi tenendo premuto il tasto mode per tre secondi passa alla modalità invece che tampone passa alla modalità di alimentatore quindi possiamo andare ad alimentarci tutto ciò che va alimentato a 12 volte per esempio per fare un esempio molto pratico i frigoriferi quelli che hanno la ventola che vanno alimentati di solito alla presa 100 sigari tramite questa funzione è possibile alimentarli dico i frigoriferi per dirne una poi nel dettaglio abbiamo la possibilità di caricare batterie a 12 a 24 volt di caricare e mantenere cariche le batterie poiché lui farà una carica della batteria fino a circa un 80 per cento per poi portarla lentamente mantenendola fino al quasi al 100 per cento quindi riusciamo a tenere attiva la batteria per tutta la sua capacità ora le funzioni principali sono sia a 12 che a 24 volt poiché una volta che noi andiamo a premere il selettore passerà nella prima modalità che è quella standard per le batterie con l'elettrolita liquido e farà una carica seguendo vari parametri per quanto riguarda quelle batterie poi abbiamo la possibilità di fare la carica per le batterie a gm che sono quelle che hanno l'elettrolita con la fibra di vetro quindi ci vuole qualche accortezza in più per caricarla il libretto di istruzione ovviamente sconsiglia di mettere a caricare batterie classiche con l'elettrolita liquido con la funzione a gm anche se poi ci indica la funzione a gm come la funzione invernale quindi se noi abbiamo una batteria tradizionale in inverno a temperature sotto lo zero possiamo caricarla con questa funzione sempre con la pressione del tasto mode che si accenderà il led a 12 volt e poi ogni singola funzione passando poi alle ultime funzioni che vedrà accendersi il led a 24 volt insieme alla funzione che si sceglie così come avviene per le 12 volt poi abbiamo sempre seguendo l'ordine la funzione di recupero quindi per le batterie che magari si sono scaricate subito precocemente in brevissimo tempo e quindi magari sono sotto la soglia minima abbiamo la possibilità di fare una carica e un mantenimento speciale che permettano il recupero al 100% di queste batterie il libretto delle istruzioni consiglia in questa funzione di staccarla dal veicolo quindi andremo a collegare la batteria staccata dall'alimentazione dell'impianto la funzione tampone e la funzione alimentazione ve l'ho già spiegata questa è la spia che ci indica che è stata invertita la polarità delle spine, delle pinze quindi se noi andiamo a invertire per sbaglio con la polarità inversa sulla batteria ci verrà segnalato dalla spia e il mantenitore, il caricabatterie ovviamente non inizierà il suo lavoro per sicurezza questa è la funzione 24 volt quindi funzioni molto semplici ma molto utili e funzionali i led intorno al led blu che abbiamo visto prima si colorano di giallo e di verde fino ad arrivare alla carica completa e ci indicano che nel primo passaggio la batteria è a un 25% per passare poi a un 75% fino a colorarsi di verde per indicarci che la batteria è carica una volta che la batteria è carica noi la possiamo lasciare attaccata al nostro mantenitore perché una volta che la batteria sarà carica lui provvederà al mantenimento stesso della batteria passando poi in modalità stand by quando rileverà che è il momento che la batteria non necessita più di corrente e quindi farà tutto da solo quindi cosa dire in più oltre che anticipare vedrete presto in funzione le nozioni di maggiore importanza sono queste in rete non ho trovato niente di dettagliato al momento dell'acquisto quindi come sempre ho pensato che magari potesse aiutare qualcuno e come sempre vi indico che anche questa non è una recensione dello strumento poiché per il momento non è quello lo scopo del canale ma voglio solo mostrarvi l'ultimo acquisto e farvi capire le sue potenzialità quindi ragazzi basterà collegare come vi ho detto la batteria prima il morsetto positivo poi il morsetto negativo il morsetto negativo possiamo collegarlo anche a un punto di massa poiché sia lontano da tubi che portano il combustibile io consiglio sempre di collegarlo direttamente alla batteria ma è la stessa cosa e successivamente andiamo ad attaccare la spina e a scegliere la modalità per staccarlo dalla batteria non andiamo a fare altro che metterlo nella posizione di stand by tramite il tasto mode quando il led blu è acceso andiamo a staccare la spina e staccare poi i poli dalla batteria quindi mi pare che il libretto delle istruzioni parli dell'operazione inversa quindi staccare prima il negativo e poi il positivo dalla batteria dal momento in cui andiamo a staccarlo quindi ragazzi lo strumento l'ho provato solo qualche ora attaccato alla batteria della tipo quindi per ora non posso darvi un riscontro tecnico ma presto lo vedremo attaccato sicuramente a qualche altra batteria quindi vi ricordo sempre e vi ripeto poiché è una cosa molto importante che io non trovavo nei vari video che girano è la funzione tampone che chi ha una macchina come la mia ne capisce l'importanza quindi come sempre ragazzi vi do appuntamento al prossimo video vi saluto e mi raccomando iscrivetevi al canale ciao a tutti